ciao a tutti amici di youtube io sono Travater91 e si torna a parlare di transformers l'ultima volta su questo canale sì era stato fine giugno quando si era parlato del futuro dopo appunto transformers risveglio l'annuncio di transformers one che chissà quando esce se esce io sto sciopero e tutti i casini che stanno succedendo a hollywood non ho più certezze e dell'energo universe il nuovo progetto dell'universo a fumetti tra l'altro non si sa ancora se arriverà in italia comunque del futuro vedremo ora ritorniamo un attimino nel passato perché torniamo a parlare appunto di transformers il risveglio ma in questo caso non di ciò che abbiamo visto al cinema ma ciò che non abbiamo visto al cinema perché mi è arrivato l'avevo preordinato su fanfactory la steelbook blu-ray del film eccola qui non farò un unboxing perché c'è poco da dire cioè qui vediamo il davanti con optimus prime dietro optimus primal in forma di gorilla aprendolo che abbiamo i due dischi 4k e blu-ray e qui c'è l'immagine che è anche il banner più famoso del film che tra l'altro è anche il menu principale l'immagine che vediamo nel menu principale eccolo qui maximal e autobot assieme per chi si stesse chiedendo ma non dovrebbero esserci qui dietro le scritte qualcosa eccolo qui qui c'è il cartone qui vedete no cartoncino con le scritte anche il il bollino di autenticità eccetera solo che non c'era niente con cui appiccicare cioè non c'è la classica o la collina l'adesivo niente infatti l'ho tirato fuori dalla dalla scatola che mi è arrivata dal corriere e boom era così quindi magari ci metto un piccolo scoccio qui che almeno si attacca qua e così poi per aprirla faccio così eccetera per carità per certi versi l'artwork lo preferisco senza la fascia qui sopra del 4k questo più pulito eccetera però appunto non voglio che questa pirli in giro e a me comunque non dispiace che ci sia qui dietro comunque c'è la descrizione del film e tutto quindi questa parte me la voglio tenere comunque sia in questo blu-ray abbiamo oltre che il film tra l'altro punto in blu-ray in 4k dico brevemente qualità audio video ottima qualità video ottima addirittura troppo cioè i colori sono talmente saturi che qualche difettuccio maggiore nella cgi si si vede per quanto comunque continuo a dire non è una cgi pessima come molti dicono ragazzi siamo nell'anno lasciando flash che è proprio il punto più basso dal punto più basso sono i mercenari uno dei punti più bassi per un film ad alto budget la sirenetta ragazzi mi pare adesso non sono sicurissimo però mi pare una volta di aver detto ti sembra butto la singela della sirenetta ma guarda quella dei transformers se io spero di spero che la mia mente se lo stia inventando sta boiata veramente perché se è vera mi sento male comunque passando appunto al succone del video qui dentro ci sono anche delle scene tagliate e vuoi non commentarle quantomeno su questo canale che comunque comunque insomma i transformers hanno una certa importanza ovviamente no parliamone in totale durano una decina di minuti sono scene o alternative o estese gioco e qualcuna tagliata ora mi tiro qui i miei appunti perché mi ero appuntato quali fossero per essere sicuro di non dimenticarmele vi dico anche come sono venivano intitolate vengono intitolate nel nel blu ray allora partiamo con this can't be real extended questa sequenza segue il primo scontro con i terror con quello in cui bumblebee schiatta tra virgolette ovviamente poi si ritirerà fuori e c'è il momento in cui ottimus lancia non mi ricordo lancia qualcosa urlando maledizione sarebbe dovuto capitare a me ecco prima che ottimus faccia questa cosa di lanciare si vede per un attimo ancora bumblebee a terra spento con gli altri autobot attorno io quel pezzettino l'avrei lasciato perché si perché ti fa capire ancora di per carità si capisce che nel fake ottimus è incazzato per quello probabilmente l'hanno tagliato pensando che fosse ridondante però io comunque quello l'avrei lasciato perché visivamente te lo faceva capire ancora di più poi andando avanti in questa sequenza si vede elena che dice non è reale non è reale si gira verso arcy che le fa un salutino ah no ok è reale sì questa era la scena con cui era una delle due scene che chiudeva il primissimo trailer che effettivamente nel film non c'era adesso sappiamo in che punto avrebbero dovuto mettere credo che il motivo per cui l'abbiano tolta sia stato che era una scena che stemperava la tensione in un momento che comunque doveva essere drammatico per la morte di b quindi l'hanno tolta e tra l'altro subito dopo lì la gag del ok è reale arriva l'inoa e chiede ad elena come stai e lei ah beh ho appena scoperto che gli alieni esistono e sono quasi morta sei volte giusto domanda stupida e paradossalmente quello l'avrei tenuto cioè era carino il salutino di arcy però capisco che non volevano stemperare però elena ancora lì sconvolta che non capisce che cazzo sta succedendo qualcosina avrei tenuto abbiamo poi noa comes home extended se vi ricordate prima di partire con gli autobot noa torna a casa e c'è quel dialogo col fratello che dice guarda devo andare via poi il suo fratellino becca mirage e gli fa promettere fai proteggi mio fratello fallo tornare a ogni costo qui scompiamo che era prevista anche una scena con la madre di noa che effettivamente in quel punto non appare la madre di noa che ovviamente ignora che il figlio sta per partire gli dice a tuo fratello mi ha detto del colloquio dai non ti abbattere andrà tutto bene e noa a quel punto la diciamogli e le dà un breve saluto ci sta che l'abbiano tolta secondo me perché la scena in sé è carina poi è breve saranno una trentina di secondi però effettivamente secondo me avrebbe anche quei 30 secondi avrebbero un po rallentato inutilmente la cosa ci sta molto di più il dialogo col fratello soprattutto perché noa essendo un adulto per carità ci sta comunque anche da adulto saluti tua madre prima di imbarcarti in una missione in cui tra l'altro potresti non vederla più ma dato che comunque il concetto principale di noa è lui che vuole proteggere la sua famiglia in particolare il fratellino malato che non so ancora capito perché cazzo sia malato ma vabbè posso capire che mi ha deciso ma saltiamo la madre passiamo direttamente al fratello anche perché poi appunto il fratello è più importante visto che vede mirage gli fa promettere che proteggerà il fratello eccetera quindi una scena carina che sono contento di aver potuto vedere nei contenuti extra ma che posso capire perché l'abbiano tagliata poi abbiamo the maximal crest extended ora qui più che una scena qui la definisce estesa ma è quasi più tagliata nel senso avete presente quando noi mirage arrivano da optimus e gli altri che stanno per partire per il perù che poi subito dopo arriverà stratosfira a prenderli no qui vediamo che prima di quel momento c'è optimus che si tiene ancora un po il fianco dopo che è stato ferito da scorgia nel primo scontro al museo e si vede elena che parla con i rezzor iniziano un attimo a costruire il loro legame e le tocca il simbolo sul pettano il simbolo lo stemma dei maximal e dice ah cos'è questo e lei dice lo stemma dei maximal ed elena risponde ah è molto bello e lei risponde avresti dovuto vedermi duemila anni fa quindi fa capire che sono molto vecchi maximal e lei dice ed elena dice scommetto che facevi girare la testa a tutti i robot e lei è più o meno ci sta poi sì che ci siano relazioni sentimentali tra i robot e un po assurdo però qui viene detto in una maniera talmente carina e ingenua che ci sta poi a me le relazioni sentimentali nei cartoni non dispiacevano neanche quindi bene così tra l'altro questa scena non è finita cioè la cgi dei personaggi è ancora ad uno stadio primario e questa cosa è interessante perché vedi che i rezzor lì non è un'aquila come la vediamo nel nel film ma è proprio al praticamente la stessa forma che aveva nella serie animata originale quindi molto più tondeggiante sinceramente preferisco il design a meno della forma bestiale perché quella di robot purtroppo non l'abbiamo vista ma preferisco il design che le hanno dato nel film che la fa la rende molto più regale sembra un po troppo per carità non è finita ripeto però sembra un po più pucciosa per come appariva in queste prime versioni quindi meno male che hanno cambiato poi il design nell'altro poi abbiamo the cave switchback alternate questa è una è una versione alternativa di noa ed elena nella caverna in cui stanno cercando la chiave di transcurvatura e mentre sopra gli autobot stanno combattendo contro i terror con infatti è la caverna il titolo appunto la caverna slash l'inseguimento e sostanzialmente ti mostrano questo montaggio alternato in cui mentre gli autobot combattono con i terror con anche lì c'è qualcosa di leggermente diverso tipo quando optimus si ferma per combattere con scorgia a parte che si vede a un certo punto cacchio che gli spara mentre in modalità veicolare cioè optimus spara mentre in modalità veicolare gli esce un piccolo cannone c'è una piccola un piccolo mitra dal fianco del camion e spara cacchio l'avrei voluta vedere quella cosa lì comunque lì non è optimus che si trasforma e dice ora mi riprendo la chiave di scorgia poi gli stacco la testa ma è più non lo distraggo perché lo seminate preferisco quest'idea avrei preferito quest'idea sinceramente ma la cosa davvero interessante è che sotto noa ed elena vi ricordate che all'inizio non vengono inseguiti da due freezer gli mostriciattoli scagnozzi di scorgia qui non è no a uccidere il freezer sparandogli col bracciale che gli ha dato mirage è che tor che arriva fa fuori il mostriciattolo e poi si mette a inseguire i due protagonisti qui tra l'altro vediamo che tor che i canini a sciabola quindi avevano in mente quest'idea che poi hanno hanno tagliato e prima cito l'inseguire per un attimo poi arriva rinox in entrambi i casi riescono a seminarli con un po d'astuzia e via da un lato questa cosa ci sta anche perché se vi ricordate quando poi incontriamo dopo i maximal c'è optimus primal che arriva incazzato dicendo chi siete voi perché cercate la chiave e in effetti ti chiedi ma come fanno a sapere che stanno cercando la chiave questa cosa se guardate quella scena ha senso hanno già visto gli altri maximal e ho detto oh qualcuno era nella caverna la stanno cercando poi io guardando il film avevo ipotizzato probabilmente avendoli visti in quella zona hanno capito che stavano cercando la chiave devono aver capito che sono arrivati lì dalla caverna perché era l'unico modo per arrivare lì in quel sentiero da quel punto e quindi hanno fatto 2 più 2 quindi non è neanche sto bucone però effettivamente così sarebbe stata contestualizzata meglio tra l'altro si vede anche l'ascia di optimus non finita appunto in uno di quei momenti che ha un design leggermente diverso rispetto a quello che poi abbiamo visto effettivamente nel film qualcuno potrebbe dire sia ok tra l'avatar va bene tutto ma avremmo visto dei maximal cercare di far del male a degli umani per di più protagonisti non è un problema a parte che comunque che tor e rinox non li toccano mai davvero quindi alla fin fine poteva anche essere solo che li volessero minacciare e in secondo luogo stanno cercando la chiave che loro hanno cercato di proteggere ci sta che siano incazzati se notate anche poi nella scena del film quando i maximal e autobus si incontrano i maximal appaiono un po stili e si fermano solo quando arriva il rezzo a dire fermi stiamo tutti amici quindi come dire la ricerca della chiave qui è voluta da uno di loro quindi in realtà quella cosa ha senso che i maximal guardino con sospetto prima che effettivamente il tutto venga chiarito il classico equivoco di due supereroi che si incontrano prima si scontrano un attimo e poi fanno amicizia quante volte abbiamo visto anche negli avengers quindi quella cosa li va benissimo non snatura minimamente i maximal per quel che mi riguarda poi abbiamo scena tagliata are you ready che sostanzialmente precede il momento in cui i rezzor viene controllata da scorgia cosa che poi la porterà tragicamente alla morte si vede anche qui cgi non finita optimus primal con in mano la chiave di transcurvatura che ricordiamo poi darà no ecco perché ce l'aveva in mano che sta per darla optimus prime se vi ricordate il giorno prima rispetto a questa scena nel film optimus aveva detto se mi dai la chiave attiro scorgio qui e così ci scazzottiamo lo facciamo fuori e ci riprendiamo anche l'altra chiave anche perché optimus prime vuole usarla per tornare su cybertron inizialmente se vi ricordate prima gli dice no senti ho già perso una casa e non rischio di perdere un'altra come leader spero che tu mi comprenda poi se vi ricordate c'è quel dialogo tra primal e dei rezzor che gli dice tu non cercheresti di tornare a casa se alla nostra vecchia casa e di salvarla se ne avessi la chance quindi il concetto è che optimus primal ci ha pensato e deciso di fidarsi di provare a darla prime poi appunto prima che gliela dia si sente elena che urla perché i rezzor sta cominciando a sclerare per colpa di scorgio e quindi corrono da lei e primal diciamo si dimentica di dargliela poi appunto la da no e succede quello che succede carina l'avrei tenuta sinceramente ci poteva stare poi sono tutte cose brevi quindi non cambiano tanto sinceramente ecco della scena prima non snature i maximal però gli fa fare un po la figura dei brocchi perché si fanno uccellare da due mani così facilmente quindi diciamo che ci sono pro e contro nella scena della dell'inseguimento dalla caverna e infine abbiamo un pezzettino del finale alternativo perché chi ha visto il film in sala ricorderà che alla fine optimus distrugge la chiave di transcurvatura rischia di essere ficca di essere risucchiato nel buco nero che si sta chiudendo il varco che si sta chiudendo a mo di buco nero e all'ultimo minuto arrivano noa e primal a salvarlo dicendo ti lo larwan infatti abbiamo un maxima le autobote umano uniti che scappano via con sotto la musica di stevia bloschi la classica è il arrival to die orte dal primo film è un momento molto emozionante come ho sempre detto la musica nei film di ebay è sempre stata bella quindi una delle poche cose che se la citi non mi fa incazzare il finale originale questo era già trapelato vedeva per optimus che veniva effettivamente risucchiato su e qui vediamo un pezzettino di quello non si vede optimus essere risucchiato quello probabilmente l'han tagliato prima o comunque hanno deciso di non includere nel blu ray ma c'è optimus che sta galleggiando nello spazio e si ritrova davanti a unico che gli dice prime forse unico non avrebbe preso optimus e lo avrebbe trasformato in emesis prime in una maniera simile a quello che vediamo nella trilogia di netflix la war for cybertrone trilogia appunto deograzias questa cosa non hanno fatta perché perché nemmesis prime ce lo siamo già giocato con transforme 5 sì questa è una continuity a parte però ragazzi a così pochi film di distanza sebbene o me siano già passati sette anni dall'ultimo cavaliere ritillo in ballo sta cosa per carità se la fai meglio della porcheria che hanno fatto in transforme 5 in cui adesso sono cattivo sono optimus prime cattivo si è sempre stato stronzo nei film di coglione bei quindi non è una non è sta gran novità e in più adesso spacco tutto nessuno mi redimerà optimus sono babbo mi ho ripreso a parlare pur senza la narige ah ok sono buono chi ha il testa di mica che ha pensato sta cosa chi l'ha provata porca vabbè ah mi era venuta in mente una cosuccina che mi ero dimenticato nel quando parlavo lì dell'inseguimento in perù lì si vede anche lì arsi in un certo punto in cui la cgi non è finita e si vede che sul suo volto si vede il suo volto e le sue labbra hanno questa specie di decorazione che sembra rossetto cosa che effettivamente cita la il cartone in cui aveva quella specie di rossetto meno male che poi nella versione finale non ce l'aveva perché ok nel cartone è divertente ma in live action è veramente inguardabile una roba del genere detto questa cosa aggiunta quest'ultima postilla direi che non c'è più niente di cui parlare ci stavate credendo ovviamente manca la scena clou rilasciata su youtube già tre mesi fa io mi sono rifiutato di guardarla perché pensavo tanto il blu ray lo compro lo so che lo compro pur con tutte le critiche che possa aver fatto a fia qui comunque alla fine dopo tre visioni al cinema la sufficienza riesco a darla sapendo che quella scena nel blu ray ci sarebbe stata ma aspettiamo il blu ray guardiamole tutte lì in alta definizione boom via ho mantenuto fede al mio proposito l'ho tra l'altro vista per ultima sebbene fosse la prima scena presente nell'elenco e infatti è l'ultima scena anche di cui parlo anche perché essendo la più su cosa no il meglio ve lo lascio alla fine tre minuti di prologo alternativo dove anziché vedere il pianeta dei maximal mangiato da unicron cosa che magari forse avrebbero raccontato in flashback più avanti questo non lo so vediamo siamo sulla terra scopriamo che il 1994 perché c'è un monologo di optimus che dice sono optimus prime leader degli autobot cosa che tra l'altro si collega anche al monologo finale di optimus sono optimus prime leader degli autobot sette anni fa quindi siccome l'altro film era dell'ottantasette capiamo la data sette anni fa ho portato gli autobot sulla terra per per organizzarci e tornare poi a combattere deserti con su cybertron purtroppo la cosa non è andata bene ho condotto qui quanti più possibile ma ora siamo bloccati qui non riusciamo a riorganizzarci si che poi optimus dice mi sento in colpa di aver lasciato qui i miei i miei uomini però il nemico ci ha seguito così per poter tornare a casa mi sono trasformato da cacciatore a preda scusatemi da preda cacciatore e appunto poi vediamo qualcosina che abbiamo anche visto poi nel montaggio finale ovvero optimus che da camion diventa robot passando in mezzo a un sacco di autobus perché in mezzo a quegli autobus c'è un deserticon che scopriamo che non viene mai detto il suo nome ma si dovrebbe chiamare transit anche perché i bus si dice transit in inglese non è un gran nome però tanto visto che non lo nominano mai nel film e non si richiama nessun personaggio diciamo che è un nome inventato così per comodità che magari lo stesso optimus si è dato giusto per per capire chi c'è per nominare questo tizio che tanto non conosce a un certo punto appunto uno degli autobus diventa appunto transit parte lo scontro da quella fine optimus esce vincitore uccidendo transit durante lo scontro per optimus dice una cosa non ti uccido se mi dai la tua navicella perché in effetti quel deserticon sarà arrivato lì in qualche modo e quindi praticamente si capisce che l'idea di optimus è se arriva a qualche deserticon a fare scherzi posso approfittarne per prendere qualcosa che possa aiutarci a tornare a casa tra l'altro da quel poco che ci lascia intuire questa scena sembra quasi che i deserticon lo sappiano che gli autobots sono lì ma hanno capito che tanto sono intrappolati e quindi dicono stiamo lì a marcire sti stronzi tanto noi spadroneggiamo su cybertron almeno questa è l'impressione da quel che ho avuto io perché c'è lo scontro optimus a un certo punto butta terra transit dopo averlo danneggiato un po e gli dice o è la tua ultima occasione dimmelo e ti risparmio che ci può stare cioè secondo me per quanto questo optimus sia incattivito e tutto avrebbe reso e fece avrebbe avrebbe mantenuto la sua parola in questo caso dai almeno ci voglio credere però così non succede però cosa succede transit dice l'ho distrutta per impedirti di scappare tu morirai su questo pianeta probabilmente questo deserticon da bravo fesso pieno di sé come sono molti deserticon ha detto io vado sulla terra se mi va bene ammazzo optimus e poi chiedo agli altri di venirmi a prendere perché ho ucciso optimus figo altrimenti distruggo una navicella nessuno mi verrà a prendere ma tanto crepo e quindi non c'è problema evito di danneggiare i deserticon almeno una pensata giusta l'ha avuta optimus sentendo questo bombasta gli spara e lo uccide ora ne stavo parlando in privato col buon christian polizzi che saluto e lui già mi aveva parlato di questa scena prima ancora che uscisse il film perché si ci si chiedeva se sarebbe comparsa o meno visto anche il concept art di transit che era stato rilasciato praticamente l'hanno tagliata perché non volevano far sembrare optimus troppo brutale che uno considera la scena è molto meno cruente sia di molte porcate che optimus ha fatto nella pentalogia dell'imbecille tra cui ricordiamolo decapitare megatron dopo che gli aveva detto facciamo una tregua ma quel cazzo avevate in mente quando avete scritto e girato quella scena qui quantomeno optimus spara sia uno che a terra però spara uno che gli sta dicendo tanto morirà il bastardo insomma è molto più comprensibile e comunque gli spara un colpo e boom lo uccide rispetto a quello che fa megatron che lo affetta malissimo vabbè lo sappiamo ma basandoci anche solo su questo film minchia alla fine scorgia gli taglia entrambe le braccia la testa lo decapita male per carità bisogna dire che scorgia ha fatto di tutto per farsi odiare ha quasi ucciso bumblebee ha causato la morte di air ezor ha quasi ammazzato mirage cioè ha minacciato di distruggere l'intero pianeta per far distruggere l'intero pianeta unicron per quanto sia comunque molto incazzato per gli standard di optimus è un'incazzatura molto un'incazzatura che ha senso nel in quel momento lì comunque appunto io l'avrei tenuta io avrei fatto così avrei fatto il doppio prologo prima i maximal e poi optimus prime anche proprio col parallelismo no da un lato dei qualcuno che ha dovuto abbandonare il suo pianeta dall'altro lato qualcuno che è bloccato su su un pianeta cioè o meglio dal lato vediamo i maximal abbandonare un pianeta distrutto dall'altro lato uno che il pianeta l'ha già abbandonato ed è bloccato lì tra l'altro è bello che sugli autobus ci sono i manifesti di film come forrest gump per farti capire che siamo nel 94 ancora è un tocco molto carino uno dei motivi per cui la scena l'avrei voluta tenere io avrei fatto avrei fatto così avrei fatto prologo con i maximal prologo con optimus che secondo secondo mini prologo con optimus appare il titolo e poi ti dicono il giorno prima perché se diamo per buono che optimus vede la il fascio della chiave di transcurvatura nello stesso momento in cui ci detransit come ci viene fatto intendere da quel montaggio avrebbe senso farti dire punto fai capire che è partito il flashback e poi fai vedere appunto come viene montato il film con optimus che si trasforma arriva da transit intanto fai vedere altro perché quello che fa optimus lo sai che ha fatto optimus lo sai già e quindi ti ricolleghi con optimus che vede anzi si poteva far vedere optimus che dopo aver ucciso transit vedeva il fascio della chiave di transcurvatura e ci si ricollegava così sarebbe stata secondo me una cosa più interessante peccato non ci abbiano pensato steven cable jr non è un regista orribile ma è ancora veramente un mestierante che deve proprio imparare ad avere un po di verva in più e appunto deve saper gestire meglio queste cose itali eccetera tipo mi hanno detto che anche in creed 2 hanno tagliato una scena in cui creed e drago facevano pace che poi giustifica il fatto che siano amici in creed 3 tenerla no anche qui appunto andava tenuta assolutamente la scena con transit andava finita eccetera sì è vero che sarebbe stato proprio ti presenti presenti optimus è la prima cosa che fa vedere lui che ammazza qualcuno però comunque il monologo che fa lì ti dice proprio ho fatto una cazzata mi sento un imbecille cioè tra l'altro e tra l'altro lui dice ho ordinato a tutti di stare nascosti perché so che se gli umani scoprissero gli autobot ci catturerebbero e per certi versi questa cosa ha senso sia perché noi lo sappiamo che faremo così e 2 bambobie effettivamente è stato quasi catturato nel film precedente questa cosa era neanche più credibile il dibattito tra optimus e bambobie quando bambobie dice ma gli umani sono amici miei e lui sì una è stata tua amica ma questo non è il nostro mondo gli umani potrebbero essere ostili cazzarola questo monologo funziona avrei comunque preferito evitare sta cosa di optimus sinceramente in toto ma almeno così è giustificata meglio mannaggia certo se l'avessimo vista nel film almeno quando è arrivato nelle sale avremmo avuto il problema del doppiaggio perché io ho rivisto vabbè le scene ovviamente erano tutte in inglese perché non le hanno doppiate ma ho rivisto anche per provare il blu ray sequenza del film in inglese e peter callen quando fa optimus prime anche nei momenti di maggiori incazzature eccetera non te lo fa mai sembrare stronzo alessandro rossi ne discutevo sempre con christian è talmente abituato a fare l'optimus prime bastardo che ormai non riesce a non farlo c'è ogni volta che optimus è incazzato mentre invece quando adoppiare peter callen senti più al finiscio scordio cioè c'è senti rabbia e tutto ma non lo senti così cattivo perché peter callen lo doppia da quasi 40 anni l'anno prossimo non l'ha doppiato in maniera continuativa però riesce a dargli quel tono calmo anche tipo tanto ho notato un dialogo cambiato quando bumbleby gli dice sempre con la sua radio tu non puoi reggere la verità in italiano optimus gli risponde a quanto vorrei che potessi parlare con una voce non tua in originale gli dice non voglio più che tu vada quel drive in appunto per non dargli più roba da citare con la radio e anche lì non è che glielo dice un non voglio più che tu vada al drive in ma gli dice non voglio più cioè lo dice con un tono quasi calmo come se fosse una sorta di mezza battuta non voglio tu non puoi reggere la verità non voglio più che tu vada al drive in e ha molto senso in generale a parte il rezzo che per quanto mi scegli ho sia un'ottima attrice secondo me in italiano la senti anche come molto più affabile rezzo lo è anche come caratterizzazione anche in originale però mi sembra leggermente più dura non troppo però un pochino di più in originale tutti gli altri guadagnano in originale anche proprio a livello di voce poi anche delle cose che a me non piacevano ovvero quando dicono io culo cose del genere sembravano fuori posto ma quando queste cose le senti in inglese che fanno proprio parte dello slang eccetera non sembrano più così tanto esageratamente fuori posto quindi è un film di cui consiglio di dare una sguardo in lingua originale perché lima alcuni difetti che sembrano trasparire dalla versione italiana ma è più appunto una questione di adattamento poi i doppiatori sono tutti bravi tranne appunto alessandro rossi ma lì non è neanche colpa sua ormai c'ha sta roba in testa e non riesce più detto questo quindi chiudo qui per davvero non ci sono altre scene tagliate philippo f una volta in un fuorionda di facce di nerd mi ha detto che era effettivamente prevista una scena in cui rc all'interno di will jack mentre trasformato in van gli dicono ah era da un po che non ero più dentro di te lasciando intendere appunto che dovevano avuto una relazione anche sessuale che va bene tutto ma i robot qui sarebbe stato veramente stupido me l'aveva già parlato prima che uscisse il film anche il buon aldo criscuolo sempre che saluto qui non l'hanno neanche messa nelle scene tagliate probabilmente hanno capito che era una tale porcheria che è meglio far finta che non sia mai esistita meno male meno 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 male per l'amor di dio limate cioè qui avevate trovato la formula giusta ritornate più vicini a questa e cercate di dimenticarvi di bel più possibile è un cretino beh lo sfacelo in cui stanno attualmente i transformers è colpa sua porca miseria vabbè detto questo comunque il video finisce veramente qui grazie per averlo seguito come sempre se vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete commentate ci vedremo in un prossimo video e come sempre visto che è un video sui transformers saluto universale va a whip grana whip nini bon ciao ciao ciao